Previsioni meteo per ferragosto, temperatura a 40 gradi centigradi? Tutti i dettagli. Prima di iniziare non dimenticate di premere il pulsante di iscrizione e attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti intriganti. Cari spettatori, benvenuti sul canale YouTube Amica Gossip. Senza indugiare ulteriormente, affrontiamo le ultime novità. L'estate del 2023 si sta rivelando un periodo davvero eccezionale, carica di fenomeni straordinari e personaggi mitologici. Dopo l'arrivo di Cerbero, Circe e Minerva, stiamo per dare il benvenuto a un nuovo protagonista, Nerone, l'anticiclone africano. Sarà lui a scatenare una settimana di ferragosto travolgente, spezzando l'Italia in due con una nuova ondata di caldo. Ma non temete, spettatori cari, poiché vi guideremo attraverso tutti gli aggiornamenti. Già nei giorni precedenti, l'anticiclone africano ha battuto record di temperature, raggiungendo 46,8 gradi in Spagna, a Valencia e in Andalusia. E ora sta espandendo il suo dominio verso il centro-nord dell'Italia. Temperature da 35 gradi a Bolzano e Firenze, fino a 64 a Ferrara, Pavia e Terni, con Bologna e Roma a 33 gradi. Ma non disperate, poiché il mese di luglio ha già sfidato numeri record. Ferragosto sarà un bollente culmine per Nerone. Sardegna e Firenze raggiungeranno i 40 gradi, mentre Roma si abbatterà sotto la Facocente. Le regioni centrali e settentrionali subiranno il caldo, Milano toccherà i 35 gradi, mentre Palermo si accontenterà di 30. Ma la sfida più grande sarà la combinazione di calore e umidità, che renderà il clima ancora più intenso. E non finisce qui, spettatori! Sabato 12 agosto ci riserverà un cielo soleggiato, ma non escludiamo possibili nubi sulle Alpi e Prealpi, con qualche breve rovescio. La giornata di domenica 13 porterà un aumento dell'AFA al centro-nord, con temperature fino a 35-36 gradi in Toscana e Sardegna. E non pensate che il sud sia esente. L'anticiclone Nerone si farà sentire anche nelle regioni meridionali, portando un aumento generalizzato delle temperature. E ora, il momento clou! Lunedì 14 agosto segna l'arrivo di Nerone sull'Italia. Un'ondata di calore proveniente dalla matrice subtropicale farà schizzare i termometri. Firenze raggiungerà i 37 gradi, e Roma dovrà fare i conti con un caldo opprimente. Ma siamo pronti a guidarvi attraverso questa esperienza ardente. E infine, il giorno che tutti aspettavate, il 15 agosto. Anche se il caldo sarà intenso, non sarà paragonabile al picco di luglio. I valori termici supereranno i 34-36 gradi sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con picchi di 37 gradi a Firenze e Roma. E voi, cari spettatori, cosa ne pensate di questa estate mozzafiato? Scriveteci la vostra risposta nei commenti e continuate a seguirci su Amica Gossip per tutti gli aggiornamenti futuri.